Accolta positivamente la notizia divulgata qualche ora fa dagli uffici dell'assessorato alla protezione civile del Comune di Massa, l'imminente superintervento da 8 milioni di euro per l'emergenza frane alluvioni sul territorio massese, dopo i tragici eventi dei mesi scorsi e dopo una prima tranche di lavori d'urgenza costati 2 milioni. Un po' meno entusiasmo per la contestuale sparata dell'assessore Vivoli. Serve l'aiuto dei singoli cittadini per rendere più sicure colline e campagne massesi. E loro, i residenti, che il fango l'hanno visto da vicino, non pensano proprio dipenda da loro lo stato del rischio idrogeologico. Per prenderci una responsabilità anche noi, un po' di colpa avremo anche noi. Io penso che se hanno costruito gli avranno dato anche permesso, penso, perché i cartelli quando costruiscono ci sono fuori, se poi non sappiamo, cioè la nostra è tanti anni che c'è quella casa lì. Stesso parere per chi non ha subito la furia del fango delle frane in collina, ma quello delle inondazioni nei pressi della costa e anche qui senza avere colpe. La via è dell'amministrazione comunale, perché se andiamo a vedere hanno intubato il Magliano, il Magliano è un fosso principale che porta da tutti i canali e ha intubato anche quello lì. Da via Reyes in giù il Magliano non funziona. Intervenire alla radice e coordinare i ruoli, su questo vivoli ha l'appoggio dei cittadini che condividono a modo loro. Pensi che una volta un assessore, qualche anno fa, e infatti qualche cittadino me lo può confermare, è venuto qui, ha promesso, ha detto che fra sei mesi, o sì o no, sarebbe ritornato. Lei l'ha visto?